Musica Tutto food, incontriamo Savino Maffei E' il personaggio che produce la più grande quantità di pasta fresca in Puglia? Di semola, pasta fresca di semola, sì E che cosa fate con questa pasta? La distribuiamo in tutta Italia, quindi in tutta la grande distribuzione italiana si trova pasta Maffei Quindi il vostro cliente chi è? È la gastronomia, è il grande ristorante? Chi è? Tutti, dalla gastronomia ai ristoranti alla grande distribuzione, alla massaglia di casa Il prodotto principe? Orecchiette Il prodotto principe sì, orecchiette, orecchiette, trofie, strozza preti Quindi fate anche le trofie, anche se non sono pugliesi? Sì, anche se non sono pugliesi, è regionale, tutta pasta regionale che facciamo E il vostro mercato quindi qual è? È Italia o anche estero? Il nostro mercato è Italia, maggiormente Italia, tutta la nazione Italia Poi abbiamo un po' di estero, un po' di Giappone, un po' di Canada Perché abbiamo la nostra produzione un po' limitata al momento Perché non ci possiamo esporre all'estero Però limitata al momento, però mi diceva che avete fatto un 20% in più di fatturato Sì, abbiamo fatto questo 20% in più di questi periodi che poi, sai, però abbiamo fatto un 20% E quando è che ha cominciato? Io faccio pasta e pane dal 1960 E la solo attività di pastificio l'ho fatto nel 1975 Come mai hai passato alla pasta? Ho passato la pasta perché mi avevo, la verità, mi avevo stancato di lavorare tutte le notti a fare pane Quindi avere questa possibilità di passare alla pasta Mi sono fatto pasta, così lavoravo solo di giorno Senza rendermi conto che purtroppo ho lavorato notte e giorno Invece col pane lavoravo solo di notte Invece con la pasta ho lavorato notte e giorno Per addempire un po' le esigenze dell'azienda, le esigenze di mercato Quindi la sua giornata tipo qual è? Lei si sveglia a che ora e a che ora va a dormire? Maggiormente le 7 di mattina sono in azienda Quindi fino alla sera alle 9, 9 e mezza Poi nella mia azienda sono ricco di una cosa, sono ricco dei miei figli Che lavorano tutti e quattro con me Quindi ecco Una grande fortuna Ho un'azienda che abbiamo 64 operai Quindi 64 collaboratori più operai E la sua giornata tipo invece quando faceva il panettiere qual era? Si andava alle 7 e mezza alle 8 e si usciva alle 11 di mattina Si andava alla sera a lavorare alle 7 e mezza alle 8 Si lavorava tutta la notte fino al mattino preso Sì ma è stato anche triste l'inizio dell'attività della pasta a lavorare Quindi anche lì si stava 14-15 ore Ecco perché poco fa le ho detto che facendo pasta non mi sono riso conto Che facendo pasta facevo notte e giorno Quindi Però ha creato anche quattro buoni lavoratori che sono i suoi figli E quindi continuano l'attività quindi è la più grande soddisfazione Immagino che sia questa La più grande soddisfazione Avere, vedere i figli, continuare il lavoro mio fatto Cioè perché è stata una mia creatura Come ho cresciuto l'azienda, ho cresciuto i loro E loro cresceranno questa creatura che il padre gli dà Vogliamo dire dove è la sede dell'azienda? La sede dell'azienda è a Barletta In provincia di Batte, in provincia di Barletta Quindi Nel cuore della Puglia Nel cuore della Puglia, sì Nel cuore della Puglia A tutta pasta A tutta pasta Grazie 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 Grazie